Amore, butto la pasta? Butta pure il secondo, tanto non sai cucinare. Dimmi quanto mi ami. Alza gli occhi al cielo e conta le stelle. Ma... è giorno? Appunto. Sai, ti ho sognata questa notte. Sì, e com'ero? Morta. Ti ho mai detto che sei simpatica? No. E che sei bellissima? No, davvero? No, è proprio per questo che non te l'ho mai detto. Certo, che sei proprio bella. Stai dicendo una bugia. Eppure intelligente. Stronzo. Io vado a mangiare e ti amo. Anche io. Davvero? Mi ami? No, vado a mangiare. Ciao, ti va di uscire con me questa sera? Monossido d'azotto. Cosa? N.O. No! Ed anche per oggi calzini rotti finisce qui. Mi raccomando iscrivetevi al canale cliccando sull'apposito tasto qui sotto. E non dimenticatevi la campanella per ricevere tutte le notifiche sui miei prossimi video. Mi raccomando fatevi un giro anche sulle pagine social per non perdervi tutte le novità del canale. E noi ci vediamo settimana prossima. Ciao. Ciao. Ciao.